Leonardo Duca, lei è segretario provinciale dell'MGL, una sigla sindacale che raccoglie parte dei precari. Qua c'è un'assemblea al Marconi particolarmente nutrita, diverse espressioni di lavoro. Lei come la vede della situazione che si sta dibattendo nel futuro? Innanzitutto questo è il secondo giorno di assemblea, perché è un'assemblea che coinvolge tutti gli enti siciliani da ieri. Quindi questo è il secondo giorno dove andiamo a rivendicare un po' quella che è la situazione attuale. In questo momento c'è una regione siciliana che l'unica proposta che ha fatto i lavoratori precari per poter risolvere il problema del precariato è quella di confluire alla fine dell'anno, quindi alla scadenza dei contratti, far confluire questo personale in una società partecipata dell'Arresaise. Noi non ci stiamo perché dopo 28 anni, come è anche stato dettato dalle recenti sentenze della Corte Costituzione Europea che ha dato torto allo Stato italiano sulla reiterazione anche dei contratti a tempo determinato, in Italia, dovrebbe il contrattista a tempo determinato, dopo tre anni dovrebbe avere il contratto a tempo determinato e quindi in automatico trasformato e quindi l'unica cosa che chiede questa platea alla regione siciliana è quella di attuare un po' enorme. Il Comune ha l'idea che questi lavoratori sono lavoratori che hanno la stessa dignità di tutti gli altri, di quelli strutturati in particolare e che sono importanti per mandare avanti i servizi e probabilmente lo saranno sempre più importanti anche nel futuro perché man mano che i contratti a tempo indeterminato andranno a naturale scadenza di pensionamento. I lavoratori li ho visti in questo incontro, li ho visti anche personalmente, quelli che sono riusciti a incontrare in queste settimane. C'è una preoccupazione in questo momento che è tangibile rispetto a quelli che sono i temi della scadenza del 31-12 e loro aspettano con grande ansia l'ennesima proroga e questo già, il fatto che ci sia ansia, è un problema. A oggi possiamo parlare di precari ma anche con lavoratori che hanno un contratto a tempo part-time, quindi non a tempo pieno e questo, se fosse possibile, è un problema anche maggiore del non avere un contratto a tempo indeterminato. È una situazione che chiaramente si è venuta a creare dalle scelte che sono state fatte dall'amministrazione precedente che ci ritroviamo così ma che chiaramente dobbiamo gestire al meglio per salvaguardare sia i lavoratori sia soprattutto il funzionamento del lente.